Non si vedono, non si toccano con mano questi dati perché purtroppo l'onda lunga della crisi porta ancora oggi a vedere i dati della disoccupazione che è cresciuta e i dati delle attività economiche che chiudono, ma il segnale che i dati sulla ripresa possono consentirci l'anno prossimo di avere dei risultati positivi e importanti, di invertire la tendenza e quindi di far sì che la fiducia riprenda anche per quello che riguarda la domanda interna, bene tutto questo è molto legato al vostro mondo. Così Enrico Letta questa mattina a Roma Alconi allarga l'orizzonte di una visita dedicata ai problemi dello sport e rassicura ancora una volta per far ripartire l'economia e i consumi l'elemento di fiducia è fondamentale, i dati ci dicono che la ripresa nel 2014 è a portata di mano, tuttavia il Presidente del Consiglio non nasconde le difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Intanto è battaglia in commissione al Senato sugli emendamenti alla legge di stabilità, 227 quelli dichiarati fin qui inammissibili, il Vice Ministro all'Economia Fassina assicura che quelli presentati dal Governo saranno pochissimi e saranno presentati a breve. Mentre Sandro Bondi avverte, fermiamoci qui, la confusione sulla legge di stabilità è oltre il livello di guardia, chiede Bondi un time out. Mentre vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti presentati da PD e PDL sulla no tax area, cassata per difetto di copertura, la proposta prevedeva di innalzare la tax area dell'IRPF a 12.000 euro. In pratica chi avesse guadagnato meno di quella cifra sarebbe stato esentato dal pagamento delle tasse. Un innalzamento fortemente criticato dalla CGL. A tenere banco è ancora invece la questione della vendita delle spiagge. Al PDL che da giorni sostiene nei fatti la vendita degli arenili si era aggiunto il PD che con un emendamento a firma di nove senatori chiedeva di mettere in vendita le aree dove sorgono i bar. Una proposta che però è stata subito ritirata, una scelta saggia definita così dal ministro dell'Ambiente Orlando. Mentre anche il sottosegretario all'economia Barretta rassicura nel governo nessuno ha mai pensato di vendere le spiagge o gli arenili. Quello che serve però, ha aggiunto Barretta, è una legge quadro che riordini l'intero settore. Casa e cuneo fiscale restano i due temi centrali. Grazie a tutti.